L'attività degli agenti di polizia diventa un fumetto lungo un anno. Il calendario 2019 della Polizia di Stato non sarà costituito come tradizione da fotografie, bensì da 12 splendide tavole realizzate da altrettanti celebri fumettisti. Il tutto con finalità benefiche, visto che dal 2001 il ricavato della vendita del calendario della Polizia di Stato è destinato a finanziare alcuni appelli umanitari dell'Unicef. Solo lo scorso anno la vendita dei calendari della Polizia di Stato ha permesso di devolvere 117 mila euro al progetto Unicef Italia Emergenze Bambini Migranti. Quest'anno il ricavato della vendita sarà destinato al sostegno del progetto Yemen, teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, dove oltre 22 milioni di persone necessitano di assistenza immediata. Unicef si prefigge di raggiungere con i propri interventi 17,3 milioni di persone, tra cui quasi 10 milioni di bambini, attraverso azioni che garantiscono l'accesso sicuro all'acqua, la prevenzione e la cura delle malattie killer più frequenti e il supporto psicosociale ai bambini e adolescenti attraverso percorsi di educazione. Anche quest'anno una quota del ricavato delle vendite del calendario sarà devoluta dal Comitato Italiano per l'Unicef al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato. È possibile prenotare il calendario da parete al costo di 8 euro e il calendario da tavolo al costo di 6 euro entro il 24 settembre, previo versamento sul conto corrente postale numero 74-50-00 intestato a Comitato Italiano per l'Unicef. Sul bellettino dovrà essere indicata la causale calendario della Polizia di Stato 2019 per il progetto Unicef Yemen. La ricevuta del versamento sarà poi presentata agli uffici relazioni con il pubblico di tutte le questure d'Italia che forniranno dettagli sulla consegna.